3 morti, 2 poliziotti e un militare dell'esercito. Fu il tragico bilancio del conflitto a fuoco che 37 anni fa insanguinò Salerno. Era il 26 agosto del 1982 quando un commando del cosiddetto Partito della Guerriglia pianificò nei pressi del lungomare Marconi a Salerno l'attacco a un convoglio dell'esercito per impossessarsi delle armi. Nella sparatoria persero la vita il militare Antonio Palumbo e i due agenti della questura Antonio Bandiera e Mario De Marco. Oltre le tre vittime si contarono anche sei feriti. Salerno ha voluto ricordare il sacrificio di quelle persone nella piazza del quartiere di Torrione intitolata proprio alle vittime del terrorismo. Importante il ricordo e l'esempio che questi nostri eroi hanno dato e devono continuare a dare e non soltanto ai poliziotti e appartenenti alle forze dell'ordine ma esempio per tutti, per tutti coloro che nella vita ordinaria possono sempre e debbono fare sempre qualcosa in favore della collettività. Questo è l'esempio più tragico del sacrificio della vita dato da questi due ragazzi. Però noi diciamo sempre che nella vita di tutti i giorni bisogna fare sempre il possibile in favore della collettività. I valori sono sempre gli stessi, quelli che devono essere perseguiti. E' proprio il numero di anni che è passato, il fatto che siamo tutti qua e che siete anche voi tutti qui è testimonianza di una sensibilità che tutti abbiamo, noi nel fare questo ricordo e voi nel partecipare. Quindi più tempo passa più significa che questi valori sono davvero intramontabili.